Un pisolino vista Duomo che è costato caro, ordine di allontanamento per l'incivile turista che aveva pensato di appendere una maca a due alberi nella centralissima piazza Grimoldi a Como. Ma complessivamente, secondo i dati diffusi dalla polizia locale, sono stati altri sette gli ordini di allontanamento di questi due in piazza della testitrice, dove da inizio anno gli agenti hanno effettuato 59 controlli, poi uno alla stazione di Comolago, un altro nell'area dell'Ippocastano, zone dove la tensione è alta da tempo. Per quanto riguarda la sicurezza urbana, negli ultimi dieci giorni del mese di aprile il comando di Vialenno Censio XI ha effettuato una serie di verifiche nelle aree a tutela rafforzata, ossia la cosiddetta zona rossa della città. Si tratta prevalentemente, come detto, dell'area dell'Ippocastano, di piazza della testitrice e di piazza San Rocco. Un uomo, inoltre, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in via Maurizio Monti e altre tre persone sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui anche cocaina in via Milano Alta e proprio in piazza San Rocco. Sul fronte della polizia amministrativa si contano 11 ispezioni commerciali in città. Sono state elevate quattro sanzioni a pubblici esercizi per attività di intrattenimento senza autorizzazione. I bar, infatti, quando organizzano eventi particolari, devono chiedere un'apposita autorizzazione. Si aggiungono poi nove occupazioni di suolo pubblico non autorizzate e riscontrate e, infine, delle irregolarità nelle insegne.